10 chiavi segrete per convincere gli altri a credere in te tecnica segreta per far credere agli altri a te come affermato all'inizio lo faremo scarico come ordinare altre persone credere in te qual è il segreto la fiducia è importante che tu sia ascoltato dagli altri se non sei fidato è probabile che lo farai di fiducia inoltre quella persona ti obbedirà quindi ascolto però faranno solo finta di sentire quello che dici e non lo farai cosa vuoi cosa succede quando siamo non qualcuno di cui ci si può fidare da altre persone perché dovremmo avere questo quindi se c'è un amico il tuo momento cercando di sperare qualcosa ai tuoi amici o altro quando trasmettere cosa cosa vuoi molto probabilmente rifiuteranno perché non credono dici inoltre soddisfa ciò che chiedi o se si vende un prodotto o servizio i nostri consumatori non credono nei prodotti o servizi che vendiamo tuttavia trasmettiamo i vantaggi dei nostri servizi e prodotti fino a quando schiumoso non spieghiamo perché non credono duro sforzo che facciamo i risultati saranno comparabili sotto sopra con quello che otterremo tutto sarà vano o se diventiamo un leader abbiamo promesso e gridato del bonus che stavamo per dare se i nostri subordinati possono raggiungere l'obiettivo questo mese a causa della loro scarsa fiducia con quello che diciamo fingono solo di sentire quello che dici e non lo fanno fare quello che dovrebbe come hai ordinato sentono che li stai manipolando e non sincero se hai questo sei sull'orlo del collasso e tutto può crollare sì giusto allora che ne dici di così che possiamo essere qualcuno di cui ci si può fidare in modo che tu essere ascoltato in questo modo quello che vuoi e speri puoi ottenerlo da quella persona perché ti obbediscono la buona notizia ti mostrerò dieci segreti come creare persone altri credono in te in modi semplici ma fantastico ed è stato dimostrato in questo modo sarai molto facile costruire la fiducia degli altri in te ok inseriamo la chiave segreta numero uno in modo che gli altri credano in te non presumere credono in te in un bazar di alloggi in un centro commerciale visitò una persona che stava cercando una nuova casa poi ci ha provato entrando in uno stand davvero magnifico diverso dagli altri tuttavia il motivo per cui è venuto qui non era perché fosse più interessato ma perché qui era più tranquillo rispetto agli altri così più libero per vedere le informazioni che ci sono tuttavia perché non c'è nessun servo i visitatori sono indirizzati solo a trovare informazioni oppure al touch screen al centro dello stand dice che puoi ottenere le informazioni di cui hai bisogno sul touch screen poi presto perché si sentiva a disagio con il suo servizio poi è uscito dalla tribuna poi si è trasferito allo stand della porta accanto lo stand era normale ma affollato perché molte persone devono fare la fila per poter entrare e ottenere informazioni per curiosità il padre si è unito in fila mentre aspettava in fila ha incontrato qualcuno che stava anche cercando alloggi e da lui ha ottenuto l'informazione che lo stand della porta accanto intendeva il grande stand dove era stato prima è un grande sviluppatore noto non ha smesso di raccontare storie mettiti in fila è finita allora l'uomo entrò e fu subito accolto dal servo in quel luogo il cameriere subito spiegato quali sono i vantaggi e l'ubicazione della location interessante in qualsiasi punto in cui si trovano alloggi che vendono e costruiscono e mostra tutta la legalità e molte altre informazioni il che è straordinario il padre decise immediatamente di ordinare un tipo di alloggio che gli piaceva che voleva prendere qui dai un'occhiata il grande sviluppatore prima perché era già grande e famoso così troppo sicuro di sé suppone che i consumatori credano già nei loro prodotti e servizi mentre lo sviluppatore è accanto ad esso fai del tuo meglio per costruire quella fiducia generando così molte vendite nella vita di tutti i giorni ci incontriamo molto come una persona pensa sempre qualcuno crede in lui provocando così malintesi perché provoca incomprensioni persino incomprensioni un incidente così semplice come si sente qualcuno lui era già ben curato e ordinato apparire come una persona capace o un funzionario poi è andato in un posto affollato c'era stato un caso in quel momento che fa sì che la polizia effettui un blocco e controlli a tutti i visitatori la persona che si sentiva grande stava passando di lì perché sentiva già di avere un bel aspetto non voleva mostrarlo identità se controllata e non vuole essere controllato proprio questo ha reso la polizia sospettosa e arrabbiata a causa di questo atteggiamento doveva essere esaminato in modo speciale questo accade spesso perché si affidano troppo agli altri credono in se stessi meglio che gli altri lo sappiano o no meglio spieghiamo ancora forniamo informazioni e altro ancora in modo che altre persone lo sappiano e infine decidi di credere in noi va bene vai all'indizio segreto numero 2 in modo che altre persone credano in te dite loro solo quanto credono in un'occasione un uomo ha raccontato una storia ai bambini come quando era giovane così eccitato può fare qualsiasi cosa in effetti ha fatto quello che ha fatto un supereroe e suo figlio lo ascoltò con entusiasmo e molto entusiasta di quello che era disse a suo padre un'altra volta quando il padre si rilassava con sua moglie sua moglie ha chiesto come stava trascorrere la sua infanzia mi ha detto che era normale come qualsiasi altro bambino tuttavia poiché gioca raramente preferisce passare il suo tempo a casa anche lui ha passato tutta la giornata in camera leggere l'orologio e lo fa sentire a suo agio cosa sta succedendo qui il padre raccontava delle storie adattandosi a chi aveva a che fare ha cercato di raccontare la storia adattato all'interlocutore ha parlato nella misura in cui i suoi interlocutori avrebbero creduto quando si raccontano storie con bambini piccoli perché il loro potere immaginario è più alto raccontava storie adattandosi ai limiti in cui credeva nel frattempo quando raccontava storie con sua moglie ti dirà di cosa si tratta perché quando racconta è come se lo dicesse a suo figlio cosa accadrà c'è anche un commerciante un tempo vendeva il suo prodotto a un prezzo promozionale fortemente scontato ed è molto limitato se il limite di tempo è scaduto l'acquirente non avrà un'altra possibilità all'inizio questo potrebbe renderlo sommerso di ordini il giorno successivo è tornato a fare lo stesso promo quello che è successo l'ordine solo un po quel che è peggio quando il prezzo di vendita viene riportato ai prezzi normali la gente si fermava a comprare perché gli acquirenti sono sicuri ci devono essere più promozioni infine con il cuore pesante per mantenere il prodotto venduto questo venditore deve ridurre i prezzi in modo permanente per sempre aveva qualcosa da dire non quanti credevano era bloccato con il suo stesso gioco perché è incoerente con le sue promozioni infine quando la promozione è di nuovo i clienti non ci crederanno è limitata sono sicuri che domani ci sarà un altro promo probabilmente anche più economico quindi in questo secondo suggerimento segreto prova sempre di qualcosa in base a ciò in cui credono va bene continuiamo indizio segreto numero 3 in modo che altre persone credano in te trasmettere la verità anche le mancanze anche se fa male durante la promozione generalmente le persone trasmetteranno i vantaggi dei loro prodotti che grandezza e che vantaggi a volte non di rado in una promozione le persone esagerano fino al punto di trasmettere qualcosa in effetti non ha vantaggi nel prodotto all'inizio forse la gente sarà curiosa su questo prodotto ma per vendite a lungo termine questo è un disastro le persone rimarranno deluse e smetteranno di usare il prodotto al momento della vendita della vw promuovono il loro marchio detto questo questa macchina è cattiva sembra un insetto questa macchina è lenta sarai fortunato se riuscirai a ottenere un biglietto i risultati sono stati ottimi la promozione è piaciuta a tutti e sono aumentate anche le vendite di vw questo è accaduto anche alla promozione dell'auto afif quando dicono sull'annuncio siamo il numero 2 motivo per cui ci sforziamo di più comprovato l'onestà ha un ottimo posto ed effetto in modo che gli altri ti fidino ok continuiamo indizio segreto numero 4 in modo che altre persone credano in te utilizzare numeri specifici veniamo al centro commerciale o vediamo le offerte sui social media e altri spesso vediamo prezzi scritti ad esempio 129.999 o molti altri esempi perché non scrivono di 120.000 o 130.000 risultati di ricerche e sondaggi è dimostrato che il prezzo scritto in modo più specifico è più attendibile dai consumatori rispetto ai numeri scritti solo interi ora arriviamo all'indizio segreto numero 5 in modo che altre persone credano in te di loro che non ricevi commissioni recentemente dare e ricevere commissioni suggerimenti o altro considerato normale bene qui se altri lo scoprono non ricevi commissioni ed è tua abitudine non vuoi le cose qualcosa del genere coltiverà la fiducia degli altri in te le persone saranno stupite da te perché oggi ci sono ancora persone che hanno questo tipo di credibilità è una cosa davvero straordinaria quindi dillo alle persone che sono convinte o glielo sapere non ricevi alcuna commissione in alcun modo in questo modo le altre persone si fideranno di più di te inserisci l'indizio segreto numero 6 ignora tutto ciò che è a tuo favore quando le persone lo scoprono non ricevi alcuna commissione può costruire la fiducia di altre persone in te allo stesso modo con questo sei un leader aziendale desideri che un dipendente si trasferisca guidi una filiale in un'area remota poi inizia a parlare con lui la tua prestazione è abbastanza buona in realtà è davvero necessario qui tuttavia dovrebbe essere non ti impedisco di passare a una carriera più alta quindi ho accettato alla direzione ti consiglio di dirigere un nuovo ramo lì sarà meglio di te minacciosamente o altro indipendentemente dai vantaggi per te e per così dire più solidale con lui secondo molte ricerche fatte le persone avranno meno fiducia in te quando scopriranno che hai un vantaggio su qualcosa più interessante non è vero andiamo avanti andiamo all'indizio 7 in modo che altre persone credano in te vestiti come una persona buona e di successo se questo senza dubbio sono state condotte molte ricerche e persino esperimenti sociali quando qualcuno è malandato cerca di interagire con le persone allora quella persona la ignorerà o qualsiasi altro atteggiamento negativo poi la stessa persona che prima era vestita in modo malandato cambia i suoi vestiti con vestiti carini e costosi sembra buono le persone che lo ignorano cambiano per essere più accoglienti aperte e disponibili interagire con lui gli esseri umani sono creature visive quando incontri qualcuno per la prima volta di solito giudica immediatamente una persona da quello che ha visto quindi se vuoi più fiducia cerca di migliorare il modo in cui ti vesti e il tuo aspetto va bene vai all'indizio segreto numero 8 in modo che altre persone credano in te lascia che ascoltino gli altri questo era probabilmente un importante indizio segreto e ha avuto un enorme impatto se fatto bene per far credere agli altri in te a un seminario quando l'oratore sta ancora parlando sul palco le persone si accalcano nella sezione d'ingresso che diamine sono andati lì per comprare una cassetta audio tutorial informazioni su come ottenere denaro facilmente da un business online cosa lo fa accadere nel frattempo su youtube o qualcosa del genere molti tutorial del genere ed è gratuito sai qual è il motivo all'inizio dell'oratore l'oratore si presenta e spiega è impegnato nella formazione aziendale online poi improvvisamente un partecipante al seminario alzò la mano e si alzò ha detto interrompo che stai parlando non vedo l'ora voglio ringraziarti in effetti non ho mai partecipato a un seminario che hai tenuto tuttavia il mese scorso ho acquistato per caso il tuo cd tutorial su consiglio del mio vicino alamdulilla dopo averlo visto fino alla fine mi sono avventurato per l'azione e fortunatamente non ci vuole molto dopo aver guardato e praticato nel primo mese guadagnavo già un reddito costante minimo 5 milioni al giorno vorrei esprimere la mia gratitudine dopo che la madre aveva finito un'altra persona alzi una mano poi ha chiesto signore dove possiamo trovare la cassetta del cd del tutorial sul business online e c'è anche qualche formazione offline il relatore ha poi risposto vista la grande richiesta la cassetta del cd tutorial era sul tavolo della commissione di fronte è probabile che ci siano solo circa 100 pezzi in più e per la formazione offline a causa del fitto programma di questo mese solo 50 persone rimaste ma per maggiori dettagli meglio chiedere all'amministratore che è in prima linea spontaneamente dopo che l'oratore ha finito di dire ciò i partecipanti si sono alzati dalle loro sedie e colato fuori per paura di rimanere senza cd tutorial e ticket di formazione incredibile non è vero a parte i possibili scenari che sono stati volutamente realizzati dal relatore il punto di questa storia è quanto è potente una storia raccontata da una terza persona può moltiplicare la fiducia di altre persone in te se guardiamo al caso di oggi la promozione è il passaparola più economico e molto influente in modo che le altre persone credano di più in te indizio segreto numero 9 in modo che altre persone credano in te molti portafogli scritti nonché prove di testimonianze e prove sotto forma di foto e altro quando vendo online tutti i potenziali acquirenti entrano nel servizio clienti di whatsapp più del 50 per cento al 70 per cento non hanno ancora deciso di acquistare o solo per divertimento tuttavia per massimizzare le vendite il servizio clienti dovrebbe fornire testimonianze di consumatori soddisfatti e di coloro che hanno utilizzato i nostri prodotti solitamente in questo modo la percentuale delle vendite salirà infatti i potenziali acquirenti che inizialmente non hanno risposto alla fine hanno deciso per acquistare i nostri prodotti qui testimonianze e altro possono aumentare e far crescere la fiducia delle persone in te indizio segreto numero 10 in modo che altre persone credano in te chiedi supporto a persone che li conoscono ottenere supporto da persone che conoscono questo è stato dimostrato di volta in volta se riesce a ottenere supporto consigli da persone che conoscono l'interlocutore sarà di più credi in te questo potrebbe essere le persone che gli piacciono le persone a loro vicine o anche persone in cui credono e altri infine chiudo con una frase dillo a te stesso se le persone in questo mondo potessero scrivere una storia di successo è tempo che tu continui ad imparare e provare anche tu puoi essere anche più grande di loro di a te stesso se possono farlo posso farlo anch'io va bene questo è il segreto affinché le altre persone credano in te il prossimo video sarà ancora più eccezionale come far desiderare alle persone di morire per te se ci sono opinioni o altre scrivi un commento qui sotto per rimanere informato sugli aggiornamenti premere il campanello iscriversi mettere mi piace commentare e condividi questo video sui tuoi social media ti ringrazio ci vediamo nel prossimo video ancora più interessante e straordinario come far desiderare alle persone di morire per te ciao 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 ciao